tan 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 e salve a tutti amici e amiche stamattina mi sono svegliato leggendo questa notizia l'arma segreta di putin che fa paura agli americani in prima pagina cioè non stiamo parlando di noccioline anzi adesso è stata slittata in terza posizione ma stamattina era proprio al primo posto ora vorrei lanciare un sondaggio così a bruciapelo una persona comune secondo voi cosa pensa leggendo questo trafiletto o meglio immaginate che vi siete appena svegliati e come me avete i famosi due neuroni che fanno già fatica a connettersi leggendo questo trafiletto cosa si scatena nel leggere questo articolo bene bisogna capire che questa mattina dopo aver letto queste righe l'effetto su di me è stato più o meno quello di caffè caldo e sigaretta cioè l'impulso irrefrenabile di correre al gabinetto ma io dico è possibile comunque a parte gli scherzi sulle ragioni per cui a repubblica se ne escono con queste uscite non voglio sindacare è scontato dire che devono vendere e quindi mettono parole a caso che attirano l'attenzione non a caso lo stesso articolo poi è riservato agli abbonati quindi ecco visto che qui si parla di un'arma segreta che fa paura agli americani a rigor di logica oggi il mondo dovrebbe essersi svegliato con questa nuova consapevolezza giusto dovrebbero esserci migliaia di articoli che ne parlano fonti ufficiali bollettini e comunicati stampa come minimo da parte del pentagono e così i primi 30 minuti della mia giornata li ho impiegati nella ricerca di informazioni per capire cosa stava succedendo e secondo voi cosa ho trovato non voglio essere volgare ma una bene amata niente anzi solo giusto un altro sito che copia incolla quello che dice repubblica bene quindi spiegatemi cosa significa tutto questo e poi che c'entra londra e dove sta scritto che gli americani lo descrivono come un'arma allora proviamo a fare luce sulla questione e proviamo anche a capire che cos'è questo satellite e se un satellite può essere un'arma se può distruggere altri satelliti se sono state sviluppate tecnologie in questo senso cerchiamo di vederci chiaro insomma intanto quello che sto per dire prendetelo con le pinze ma sottolineo quanto sia importante essere sempre super critici e diffidenti quando si leggono i giornali italiani e fare sempre delle ricerche per capire meglio che cosa vogliono dire dove vogliono andare a parare spesso giornalisti sono molto bravi ci mancherebbe però purtroppo altre volte il loro lavoro sollevano un pochi dubbi almeno sulle fonti e l'attendibilità di quello che dicono se facciamo delle ricerche su questo satellite super segreto e militare bisogna capire che tutti gli oggetti che vengono in orbita tutti i satelliti in qualche modo hanno una tracciatura vengono tracciati per motivi di sicurezza per le convenzioni internazionali e anche per evitare che possano collidere gli uni con gli altri e su questo poi ci torneremo fra poco insomma lo spazio non è proprio un territorio territorio selvaggio dove ognuno fa quello che gli pare in generale ci sono degli accordi per rispettare un minimo di sicurezza e non ostacolarsi a vicenda per tutti quelli che insomma stanno anche sotto le persone comuni che ci vivono sotto lo spazio ma soprattutto per una questione di ordine un po come avviene per il traffico civile quindi capirete che mettere in orbita ordigni nucleari armi non è proprio una scelta saggia nel senso se pensiamo che un ordigno nucleare poi possa cadere anche accidentalmente sulla testa di chi lo ha lanciato sarebbe un'arma che ti si ritorce contro poi ci sono anche altre implicazioni nel vuoto un'arma nucleare non ha praticamente effetto non essendoci aria non c'è un vettore attraverso cui l'esplosione può espandersi per cui l'effetto della bomba è molto limitato non lo dico io ma sono stati fatti esperimenti durante la guerra fredda per dimostrarlo le applicazioni di un ordigno nucleare sono limitate nello spazio appartengono più a studi nel campo degli impulsi elettromagnetici che in teoria potrebbero disturbare apparecchi elettronici accecarli per esempio quindi mi dispiace ma quello che avete visto nel film armageddon di michael bay insomma mandare minatori nello spazio e piazzare bombe nucleari negli asteroidi è una cosa stupida non si fa ma torniamo a noi facendo ricerche su questo cosmos 2553 i primi risultati sono da parte dell'agenzia spaziale americana la nasa che ci mostra una paginetta in cui si dice che questo satellite appartiene a una famiglia di satelliti per la ricognizione probabilmente equipaggiato con un sistema radar per la ricognizione e quindi questa già è la prima smentita a quello che dice repubblica ma passiamo avanti pescando wikipedia questa pagina in cui l'ultima modifica è stata operata proprio l'altro giorno l'otto maggio 2024 le missioni spaziali cosmos sono iniziate nel 1962 utilizzando il famosissimo vettore soyuz che poi fra l'altro è anche quello che ha utilizzato samantha cristoforetti per intenderci la descrizione di tutti questi satelliti è per la ricognizione con vari equipaggiamenti dai sensori ottici tradizionali come telecamere ottiche infrarossi e quelle per la navigazione sistemi per la navigazione gps fino al 25 novembre 2021 con un satellite che era il predecessore di quello in cui si parla in questo articolo che aveva un sistema di missile early warning cioè un sistema che identifica i lanci di missile e poi appunto il 2553 che è denominato natron numero 1 identificato come satellite da ricognizione se guardiamo allo storico di tutti questi satelliti ci danno un'idea degli sforzi della russia di compensare le loro capacità non potendo utilizzare i satelliti occidentali per la navigazione gps per esempio o per la ricognizione e lo spionaggio in generale se vi state chiedendo come mai wikipedia la nasa e altri articoli articoli parlino di questi oggetti dei loro lanci le date e per una convenzione internazionale cioè tutte le nazioni nel momento in cui lanciano qualsiasi cosa in orbita devono comunicarlo agli enti internazionali perché altrimenti provate a immaginare cosa accadrebbe se fosse visto partire un missile intercontinentale dalla russia o dall'america senza alcun preavviso quindi come abbiamo detto satellite da ricognizione e va bene ho pescato giusto wikipedia che lo so è odiata dai complottisti come anche la nasa se per questo però andiamo avanti questo è un sito per la tracciatura di tutti gli oggetti in orbita fonte comunità degli stati indipendenti fra cui proprio russia e cina questo è il tracciato del nostro satellite sappiamo che ha un perigeo di 1999 chilometri è un apogeo di 2000 significa che è in un'orbita circolare se fate caso il suo percorso è focalizzato proprio sul territorio ucraino questa informazione che vi sto dando prendetela come volete però lascia intendere che sia un satellite militare per la ricognizione quanto meno e qui mi spingerei anche oltre con funzione di missile early warning che significa che può essere un satellite con sensori dedicati alla scoperta di lanci di missili ed eventualmente il loro tracciamento una volta in volo perché ovviamente se parliamo di un sistema di un satellite che può avere una telecamera in afrarossi il lancio del missile emette moltissima luce quando parte ed emette molta luce anche in volo quindi è possibile sì un satellite con sensori dedicati alla scoperta di lanci di missili è possibile quindi in questa pagina allo stesso dallo stesso sito possiamo vedere tutti i passaggi presenti e futuri dei prossimi giorni perché ovviamente i satelliti hanno delle orbite prestabilite non è che una volta piazzati lì non possono cambiarla di tanto come vedete è stato messo in un'orbita specificatamente in quell'area su questo sito vediamo la data di lancio due anni fa il 5 febbraio con questa magnifica foto della soyuz abbiamo anche delle informazioni aggiuntive cosmos 2553 è identificato come un satellite russo per la condizione con sensori ottici per rilevamenti precisi dall'orbita passiamo avanti sito di divulgazione spaziale di fonte russa quindi adesso spero che proprio chi pensa ai complotti e alla nasa lasci perdere il 5 febbraio 2022 alle ore 10 è stato lanciato questo satellite con la sua registrazione ufficiale nel registro degli oggetti in orbita e relativa tracciatura internazionale eccetera eccetera è stato piazzato in un'orbita circolare ad un'altitudine di 2000 chilometri quindi confermiamo il sito precedente ed è stato descritto dal ministero della difesa russa come un satellite tecnologico equipaggiato con sistemi di nuova concezione e strumenti per testarli sotto l'influenza di radiazioni e particelle cariche pesanti si ritiene che sia il primo satellite radar natron costruito dalla npo maschino strohenia benissimo diamo un'occhiata a un'altra pagina di divulgazione scientifica orientata allo spazio perché immagino che a questo punto qualcuno come me si sarà chiesto ma che accidenti è questo natron la stampa russa riporta che questa tecnologia serve a fare ricognizione dalla terra scusate ricognizione della terra ed eventualmente fornire una tracciatura degli altri satelliti in orbita altre fonti ipotizzano un carico utile radar ok lasciamo perdere per un attimo le dichiarazioni della stampa russa la cosa più interessante di questo sito è che possiamo vedere che tipo di alimentazione ai satellite qui si legge batterie alimentate da pannelli solari interessante ora so che molti di voi che mi seguono da un po sono anche più esperti di me quando si parla di radar e tecnologie di questo tipo ma per la tracciatura di oggetti in orbita non è molto più comodo creare una grossa antenna sulla terra molto più potente che su un piccolo satellite alimentato da pannelli solari a voi la parola nei commenti passiamo avanti altro sito interessante dedicato proprio alle missioni cosmos vi ricordo che si sta parlando di una missione iniziata due anni fa e quindi non oggi come afferma repubblica in questo piccolo articolo troviamo ulteriore conferma di quello che dicono altri ma con un dettaglio aggiuntivo importante le persone che seguono l'industria spaziale russa attraverso fonti pubbliche pensano che questo satellite sia il primo di un nuovo satellite radar chiamato natron secondo i russi è dotato di strumenti di bordo e sistemi di nuova concezione per i test sotto l'influenza di radiazioni e particelle cariche pesanti questa missione ha senso considerando l'orbita in cui è stata tracciata secondo l'esercito americano è stata inserita in un'orbita circolare ad un'altitudine di 2000 chilometri e inclinata di 67 gradi rispetto all'equatore che sembra essere proprio nella fascia di radiazione di van allen inferiore lo stadio superiore fregat è stato de orbitato in sicurezza nell'oceano al secondo in un secondo momento quindi ci sono due elementi importanti in questo ultimo articolo il primo riguarda il posizionamento proprio in corrispondenza della fascia di van allen inferiore e questo la dice lunga cioè se il satellite è stato piazzato lì di proposito significa che ha degli strumenti specifici per accogliere l'intenso bombardamento di particelle cariche derivanti dal vento solare quindi questo contraddice un poco la natura militare del satellite quantomeno potrebbe avere piuttosto una natura di studio scientifico o relativo all'influenza che le particelle pesanti hanno sulle apparecchiature elettroniche ma allo stesso tempo non smentisce un possibile utilizzo militare con tecnologia radar l'altra cosa interessante è che il vettore soyuz come sappiamo già da tempo è tranquillamente capace di spingersi fino a orbite più alte senza particolari problemi quindi questo è quello che ho trovato magari emergeranno altre informazioni ma onestamente credo che questo satellite sia quello che sia cioè non penso proprio che gli stati uniti siano minimamente preoccupati dalla sua presenza voglio dire ci sono stati e ci sono dozzine di altri satelliti simili se non più avanzati in giro nello spazio ora se vi state chiedendo se è possibile distruggere altri satelliti in orbita la risposta è sì con altri satelliti tecnicamente cioè basta farli collidere però ecco c'è un grosso problema in tutto questo la storia umana come sempre è colma di sorprese già dalla fine degli anni 50 gli stati uniti iniziarono a preoccuparsi della presenza di questi oggetti in orbita e non solo ovviamente anche dalla possibilità di intercettare i missili intercontinentali però questo è un altro discorso fu presa in considerazione l'idea di fare detonare ordini nucleari nello spazio e furono condotti anche dei test ma come ho accennato prima con risultati insoddisfacenti una delle cose più significative di questo progetto fu lo sviluppo di un missile avio lanciato un missile aria aria quindi o almeno aria spazio abbastanza potente da raggiungere un satellite in orbita e distruggerlo a questo scopo si partì da un missile phoenix già famoso per le sue impressionanti caratteristiche di volo lanciato da un f-14 tomcat e si proseguì con lo sviluppo del asm 135 asat dove asm significa appunto anti satellite missile questo missile aveva due stadi una tecnologia avanzatissima per l'epoca veniva definita mhv che significa miniature homing vehicle o ancora peggio mkv miniature kill vehicle che significa più o meno veicolo miniaturizzato per la distruzione aveva un sistema di guida e sensori miniaturizzati e infrarossi e giroscopi sofisticati più un computer di navigazione progettato per essere autonomo e raggiungere così il punto di impatto la testata era sviluppata partendo da un missile anticarro non aveva bisogno di esplosivo perché appunto le bastava la sua enorme energia cinetica questo grosso missile fu equipaggiato in posizione ventrale su una versione modificata delle f-15 eagle furono condotti dei test perché si sa parliamoci chiaro ai militari piace tanto far esplodere le cose no sono un poco come i napoletani a capodanno o peggio i miei vicini di casa tutte le volte che c'è un battesimo una festa di compleanno o una partita di calcio su cinque test condotti tre furono un successo il 13 settembre 1985 l'f-15 eagle fu guidato nel corretto punto di lancio e nei tempi esatti per la finestra di tiro il pilota salì in candela con un angolo perfetto di 65 gradi mantenendo una velocità costante di mac 1,22 e il lancio venne effettuato da 11.600 metri di quota il missile acceso il primo stadio accelerò verticalmente superando l'atta atmosfera esaurito il primo stadio si accese il secondo che aveva il compito di trasportare la testata esplosiva nello spazio e in rotta di collisione verticale verso il bersaglio l'ultima parte del missile separatasi dal secondo e ultimo stadio si diresse autonomamente verso il satellite all'impressionante velocità di 28.800 km orari e così lo disintegrava mandandolo in mille pezzi in mille pezzi appunto notevole in questa immagine poi vediamo quale poteva essere un eventuale utilizzo di questo f-15 modificato cioè altro che x fighter di star wars proprio morte nera scansati perché questo progetto fu abbandonato dopo cinque test e tre satelliti distrutti lascio un po di tempo per farvi ragionare la risposta è molto semplice e in qualche modo è un'altra prova esemplare della stupidità umana il problema dello spazio è che se tu hai un oggetto in orbita quello rimane lì per molto moltissimo tempo non è che se distrugge un satellite quello cade sulla terra cioè chiaro i suoi mille frantumi pezzi continueranno a restare lì per decenni quindi se generi migliaia di detriti su un'orbita alta tipica di un satellite quella poi diventa piena uno sciame di detriti troppo pericolosa e inutilizzabile per molto moltissimo tempo quindi praticamente i pezzi di quei satelliti distrutti nel 1985 stanno ancora lì migliaia di pezzi e ne vale la pena il discorso è proprio questo cioè se tu distruggiri un satellite in orbita lo sciame dei detriti resterà lì per sempre e danneggerà anche i tuoi satelliti potenzialmente tutti i lanci che farai in futuro quindi ovviamente poi da allora sono state progettate tante altre soluzioni alternative alla distruzione del satellite tipo per esempio missili che partono da terra o armi laser che hanno quantomeno l'obiettivo di distruggere i sensori di questi missili comunque il problema dell'inquinamento spaziale non è roba da poco qui vi mostro per esempio un'animazione dei pezzi di metallo vecchi satelliti che sono ancora abbastanza grandi da poter essere tracciati animazione realizzata dal sito dell'agenzia spaziale europea questi oggetti diventano veri e propri meteoriti o micro meteoriti estremamente pericolosi non tanto per noi che non c'è il rischio che ci cadano sulla testa anche perché siamo protetti dall'atmosfera che li brucia quando rientrano però c'è un rischio molto concreto per gli astronauti dalla stazione spaziale internazionale e tutte le missioni umane future per tutti gli altri satelliti che sono in orbita quindi che non sono solo satelliti militari no per intenderci l'importanza dei satelliti nella vita di tutti i giorni è fondamentale per la navigazione gps che vediamo sui nostri cellulari la navigazione marittima in aviazione e tutti i processissimi studi che si fanno sulla terra dall'analisi e prevenzione di tsunami terremoti eventi climatici estremi le applicazioni sono tantissime tantissime senza satelliti tutta la nostra tecnologia quotidiana sarebbe molto molto diversa quindi per concludere utilizzare satelliti militari o missili per distruggere altri satelliti per dirla in modo fantoziano è una caga pazzesca bene e con questo è tutto oltre a mostrarvi le immagini che vi ho mostrato oggi ho utilizzato Kerbal Space Program molti di voi lo conosceranno lo ameranno sicuramente è un giochino software di simulazione spaziale che viene fra l'altro utilizzato anche nelle scuole proprio per imparare concetti di fisica vettoriale e missilistica niente il video finisce qui fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando iscrivetevi al canale come sempre un abbraccio